Sì, diciamo che nelle ultime ore, soprattutto nelle ore del mattino, si sono avute diffusioni nevicate a partire dai 300-500 metri di quota che hanno depositato specie oltre 700 metri e anche 30-40 centimetri di neve fresca. Diciamo che questo evento è stato soprattutto rilevante per quanto riguarda il forte vento che ha interessato sia le aree interne appenniniche, parte tutta litorale, dove le raffiche di burra hanno raggiunto anche gli 80-100 km orari, determinando forte mareggiate e anche una notevole erosione di gran parte degli arenini. Fino alla giornata di domani, soprattutto nel mattino, il vorficio depressionario sarà ancora attivo sul nostro territorio, quindi avremo ancora un cielo nuvoloso con possibilità di qualche residuo debole fenomeno, specie sulle aree interne, con qualche fioppo di neve in collina. Sulle aree costiere il cielo si manterrà nuvoloso con ancora forte vento che poi nella seconda parte della giornata sarà via via in attenuazione con schiarite parziali che ci faranno strada soprattutto nel corso della serata. Poi nei prossimi giorni le condizioni andranno ulteriormente migliorando, quindi dalla giornata di sabato ci attendiamo schiarite via via più ampie in vista di una domenica dal tempo più stabile e soleggiato.